Eroe dei giorni nostri, il campione paralimpico Oney Tapia. L'abbiamo incontrato alla Rimini Wellness. 5.000 persone scatenate, sul palco di Zumba, una coppia inedita. Beto Perez e Oney Tapia, ovvero l'inventore del programma che ha rivoluzionato il fitness mondiale e il campione paralimpico medaglia d'argento nel lancio del disco a Rio. L'incontriamo dietro le quinte a Rimini Wellness. Oney è una persona che dimostra che non ci sono limiti, che si possono fare le cose, che tutto si può fare, che tutto è possibile. Siento molto identificato con lui perché io... Mi identifico molto in lui perché penso come lui e siamo arrivati dove siamo arrivati perché la pensiamo così. Oney ha perso la vista dopo essere stato colpito da un ramo mentre lavorava come giardiniere. Un incidente che le ha cambiato la vita ma che lui stesso preferisce definire... Una benedizione perché nel momento in cui è arrivato questo infortunio, questo incidente, mi ha permesso di riconoscere tante cose di me che avevo scontato. Me ne ero dimenticato da me stesso. Invece con questo ho recuperato un sacco di qualità che tutti abbiamo. Ad esempio, riconoscere me stesso, sentire il mio corpo, sentire la mia forza, sentire le emozioni, che erano cose che non ho mai sentito. E mi ha permesso proprio di sentire tutte queste qualità che abbiamo noi. Per imparare una coreografia, gli bastano il contatto fisico e poche parole. Tutti i latini balliamo. È normale che abbiamo questo ritmo nel corpo. In questo dobbiamo sfruttare lo massimo. La dimostrazione è sotto gli occhi di tutti. Il popolo di Zumba segue e risponde al ritmo di musica latina ed è di nuovo un evento. Tutti i movimenti sono sincronizzati con la musica. Lavorare con la musica è molto importante perché ogni movimento è marcato e sincronizzato con uno. La persona si sente motivata perché deve eseguire la coreografia a tempo di musica. Con la musica.